Buonasera, buonasera, bentornati qui al punto nello studio di Telefriuli, dunque la settimana è piuttosto calda, avete visto che in Sicilia c'è un exploit del Movimento 5 Stelle, ma anche il centrodestra ha fatto il suo exploit, abbiamo la sinistra che ormai sta perdendo pezzi e questo si riverbera anche sul Friuli Venezia Giulia, pare che un accordo proprio in quelle terre sia stato fatto per Federica, candidato presidente del centrodestra e mi pare che la fermazione sale in tutta la coalizione. Il centrosinistra a questo punto darà sicuramente strada libera a Bolzonello, perché in questi casi quando la situazione si fa difficile i candidati non si trovano, ma poi abbiamo il 5 Stelle che si parla della Bianchi, si parla di Patuonelli, ma comunque il loro met up, come li chiamano, sapranno individuare. Noi stasera invece ospitiamo qui, ospite della mia trasmissione, graditissima la dottoressa Alessandra Guerra, benvenuta presidente, ti chiamerò presidente, ci conosciamo, quindi è inutile darci da lei in questo caso. Ecco, mi pare che dopo un periodo sabbatico, diciamo così, un periodo di riflessione, abbiamo conosciuto una guerra, adesso conosciamo un'altra guerra, perché mi pare che tu hai cambiato anche il modo dell'approccio alla politica. Allora io ti chiedo, perché questo ritorno? Per una questione di giustizia. Io ho vissuto la politica con cuore, con tanto amore, tant'è che ci ho perso anziché guadagnarci, nel senso che avevo un mestiere, ero laureata, la mia carriera personale era fatta di grandi doveri e di tappe conseguite una dietro l'altra. La politica ha ribaltato tutta la mia vita e io ci ho messo anima e core, come si dice a Roma. E poi quando sono uscita, perché non ce la facevo più, mi hanno offerto tante cose belle, anche i nemici e devo dire onore ai nemici. Ho deciso di riprendere in mano il filo rosso della mia vita e della mia esistenza e soprattutto l'equilibrio. La politica fa fatica a dare equilibrio alle persone. Io l'ho sempre mantenuto, ma a scapito della mia morbidezza di donna, perché ero diventata un gendarme sostanzialmente. Ecco, a proposito di morbidezza di donna, tu sei stata la prima donna Presidente di Friuli San Giulio, ma anche la prima donna che ha coordinato un po' le... si parla tanto del primato femminile, ma tu mi pare che l'hai battuto già a suo tempo, no? Dopo un passaggio, diciamo così, dal centro-destra a un emanamento così fugace, mi sembra, sul PD, tu adesso hai sposato la linea verde. Ecco, parliamo del primato della donna, ma primato anche di questa nuova guerra che si mette con i verdi. Allora, non mi metto con i verdi, i verdi mi hanno chiesto di candidare per loro. Io non farò mai più una tessera di partito, loro lo sanno, sono stata molto molto corretta. Posso essere l'elemento di cui loro hanno necessità in questo momento per poter pensare di correre in una campagna elettorale al pari o insomma rincorrendo gli altri, come si dice, no? Perché dicono che non abbiamo possibilità, ma non importa. Allora, l'esperienza ti porta anche ad avere una visione diversa, no? Io non sono mai stata veramente di centro-destra. Io sono nata con la Lega partendo dal movimento autonomista di mio padre e dalla vecchia democrazia cristiana, perché papà prima fu democristiano e poi fondatore del movimento Friuli. La Lega non era né di destra né di sinistra, poi altalenò parecchio tra destra e sinistra dicendo noi vogliamo il federalismo e poi dalla malattia di Bossin poi si collocò definitivamente a destra. Io purtroppo non ho un cuore a destra. Non ce l'ho neanche a sinistra, sono di centro come te, cioè siamo fuori dal tempo ormai. Ma scusate, ma la guerra riconosce che la Lega è cambiata tantissimo, ha cambiato pelle completamente e adesso addirittura il Nord lo sta levando dagli scudi per poter diventare un partito nazionale. Io preferisco non parlare della Lega, ho sofferto troppo. C'è da dire che la Lega era federalista, poi si è occupata un po' troppo di messaggi forti di destabilizzazione del paese fino ad arrivare alla secessione che non è nelle mie corde e ha portato avanti questa politica di destra sull'immigrazione che non mi appartiene. Io vengo da una scuola tra virgolette cristiano sociale, per cui non ce la facevo più. Ecco, allora sai che a me piace molto il CSU Bovarese, l'ho vissuto anche al tempo. Ecco, i programmi sono molto pragmatici da quelle parti, mi pare che tu sposi questa linea del pragmatismo. Ecco, allora i programmi che tu hai così in testa, non ti chiedo di essere molto esaustiva, ma per grandi linee. Velocemente, perché lo stiamo scrivendo e lo stiamo cominciando a condividere. Però la cosa più importante è un'emergenza sociale enorme che c'è nel paese oggi, una denatalità fortissima, un'immigrazione altrettanto forte e inarrestabile e la necessità, l'ha detto Macron e ha vinto le elezioni quando nessuno gli dava un centesimo, la necessità di trasformare questi cittadini immediatamente in cittadini italiani. È inutile che continuiamo a combatterli. Noi abbiamo le case vuote, i negozi spenti, una società che non fa figli e un'altra parte di mondo che vive da noi e che porta costumi che sono devastanti. Perché questa è la verità. E questo è un problema, perché porterà un confronto abbastanza duro, secondo me, perché non solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista sociale, come dici tu. Questo maschilismo di ritorno, questa emulazione del bullismo a tutti i costi, sono fenomeni emergenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Io sono preoccupata da CSU Bavarese per la gioventù. Non c'è più un progetto vero per i giovani, non c'è più progetto di uguaglianza, di integrazione, ma anche di grande scolarizzazione sociale. E poi l'arte, la cultura, le scienze, non si parla più di questo. Però, voglio dire, la donna in politica, tu l'hai vissuto in prima battuta, no? Adesso abbiamo anche una presidente donna, in sostanza, no? E probabilmente non ci sarà una presidente donna in futuro, qui in frequenza Giulia, ma la donna è stata emarginata in politica, secondo te, o sono state delle coincidenze che ti hanno portato a fare la presidente? Beh, io sono volata alla presidenza senza neanche accorgermi, le coincidenze. Sono arrivata, pensate all'assurdo, no? Io avevo appena vinto il concorso a scuola e volevo entrare in università. L'università di Udine era troppo giovane, non aveva ancora i concorsi e quindi desideravo pubblicare. E mi sono avvicinata alla DC di Zanon, perché aveva una casa editrice per poter pubblicare su Storia e Cultura Friulana. E Zanon mi disse guarda, questa linea editoriale è finita, era amico di papà, ti consiglio di avvicinarti a Fontanini, alla Lega, perché magari hanno bisogno di un appendice culturale, hanno bisogno di produrre cultura e magari, perché no, cominceranno a pubblicare qualcosa. Io arrivai così. Ecco, questo è stato l'approccio, insomma. Poi chiesero a papà di mettersi in lista, papà disse, ma non, ma neanche per idea, misero Taboga, un medico di buia, Taboga si ritirò alle ultime 24 ore e come tappa buchi finì io. Dopo 15 giorni diventai assessore e dopo meno di un anno Presidente della Giunta. Travolta. Ecco, come hai vissuto quel periodo? Allucinante. Travolta. Travolta perché da un lato cercavo di crescere dal punto di vista istituzionale e politico, anche se capivo poco, perché ero abituata a studiare e quindi era più facile diventare Presidente che diventare un politico. E dall'altro c'è stato il grosso impatto con quello che sono le meccaniche del partito, di tutti i partiti. Per me è stato uno shock, onestamente, perché, ne parlavamo prima a quattro occhi, chi è cresciuto in una cultura nazionale popolare conosce l'etica, è di parola, in politica non c'è la parola. Adesso purtroppo le cose stanno cambiando molto. L'unico che aveva parola nella Lega era Bossi, quando è finito lui è finito tutto, per cui io avevo ottenuto la sua stima, nonostante il suo macismo, mi trattava come un uomo, un guerriero, dato il cognome probabilmente anche. Quello anche aiutava. Senti, sono due argomenti, le unioni territoriali intercomunali che in qualche modo spaccheranno l'opinione pubblica. Tu come la pensi? Io credo che siano sì un problema, ma non siano il problema dei problemi. Qui il problema è macro, la questione del federalismo di nuovo, perché il paradosso è che la Lega che è arrivata a spingere fino alla secessione, oggi ha partorito un topolino. La Lombardia e il Veneto chiedono neanche quello che aveva il Friuli Venezia Giulia. Non solo, ma le altre regioni a statuto ordinario chiedono federalismo e chiedono di potersi gestire nel territorio e le regioni a statuto speciale paradossalmente a partire da questa che è il fanalino di coda rischiano di perdere quel pochino ancora di autonomia per potersi autogestire che aveva un tempo. Come dire, si è un po' imborgesita in sostanza. Assolutamente. Poi c'è la riforma sanitaria che fa anche... Anche questo è il tema di tempo. Ecco, la riforma sanitaria è cambiata molto da quando tu eri Presidente. Da allora sono passate anche molte cose, ci sono meno risorse, eccetera. Ma questa idea dei plessi che sono cambiati in maniera così repentina è, qualcuno lo dice, senza discutere. L'ultima vera riforma è stata la mia, 1995. È stato un salasso. Siamo stati rinchiusi ad Osopo per la questione dell'ospedale di Gemona e ancora la regione campa ed è stata virtuosa a livello nazionale per quella riforma. Era la mia giunta. dopodiché quella riforma doveva essere una riforma umana e lo è stata per un certo periodo. Cioè doveva mettere insieme il grande ospedale di Rete, Udine, Trieste, con il piccolo ospedale decentrato, perché questa è una regione policentrica, non è una regione a un centro solo, no? Dando servizi su tutto il territorio e consentendo la grande chirurgia, i grandi interventi al megacentro di riferimento, compresa l'oncologia. E non è successo niente di tutto questo. Via via il messaggio si è depauperato. Hanno tolto i servizi al territorio, hanno potenziato il centro in una lotta intestina e fratricida tra università e ospedale. Ecco, volevo arrivare lì. Qualcuno dice che la burocrazia e comunque anche i tempi dettati dall'università hanno stravolto un po' quello che era l'idem sentire, no? Si chiama potere. Chi conosce docenti universitari che lavorano in maniera onesta si rende conto di che cosa c'è là dentro. Ma a me viene un po' da ridere, no? Mie figlie guardano Grace Anatomy. E mia figlia tra l'altro studia medicina, io non sono mica tanto contenta per il clima che c'è in quella facoltà. E Grace Anatomy che cos'è? È la meccanizzazione dell'uomo. Cioè diventiamo bravissimi operai della medicina con i guanti, i chirurghi, ma certo, l'anamnesi, la storia personale. E poi c'è dall'altra parte un'emergenza straordinaria che sono le droghe e le tossicodipendenze. Io in questi anni ho fatto volontariato, come la dici un tempo. Ho fatto volontariato sociale, ho seguito al centro dipendenze di San Daniele un corso intensivo sulle dipendenze e mi sono accorta che c'è un'emergenza allucinante. Un tempo la regione Friuli Venezia Giulia era la regione dell'alcol, dell'alcolismo. Oggi è la regione delle droghe e delle dipendenze, anche da psicofarmaci. Ho visto di tutto. Queste sono le emergenze vere. Cioè non stiamo più in piedi. Ma nella salute non stiamo più in piedi. Per non parlare dei tassi oncologici, qui i Verdi hanno fatto degli studi straordinari che faremo uscire. Ecco, se li siamo in finale proprio. Voglio farti una domanda finale. Tu sei un nuovo ciclo, un nuovo impegno, una nuova frontiera che vedi davanti a te. Per cui con i Verdi hai riscoperto la politica vera. L'amore per la politica. L'amore per la politica. Casomai ti chiamassero a far l'assessore esterno? No, ma non ci penso neanche. Io non corro per vincere. È anche quasi impossibile, dicono. Per me nulla è impossibile per quello che sta succedendo in Europa, Macron, l'Olanda fra poco. Nulla è impossibile. Però corro con le idee e con la forza del cuore. E grazie per la tua umanità. Va bene. Io ti ringrazio per la tua partecipazione e soprattutto per la disponibilità che hai avuto immediatamente a venire qua a fare chiacchiere con me. Io penso che tu tornerai perché ormai sei una candidata presidente e penso che anche la rete si mobiliterà su questi confronti. Naturalmente io vi ringrazio. Ringrazio di nuovo la dottoressa Guerra e naturalmente alla linea telegiornale. Arrivederci.